È sempre stato l'artefice del suo destino e mi piace pensare che sia stata anche una sua scelta, non ha mai avuto pure della morte. Franco sapeva, l'ha sempre detto nei suoi brani, che siamo tutti di passaggio. Ecco, io voglio viverla così e niente, perdonatemi, è una giornata un po' pesantina. Siamo qui per vivere un dolore con grandissima dignità. È una celebrazione dentro una casa privata, quasi con una forma anche di rispetto nei confronti dei poveri della terra. Abbiamo pensato anche ai brani, leggeremo un brano del libro della Sapienza, leggeremo anche un altro brano del Vangelo, leggeremo proprio le beatitudini. Ciccio è nato a Riposto, nativo di Riposto, ha speso la sua gioventù a Riposto, in particolare nel quartiere del Carmen, lo scaricello, a cui è particolarmente legato, non è vero che nelle sue prose, canzoni, l'ha sempre e spesso ripetuto. Quindi, il miglior cittadino che abbiamo avuto, la migliore figura. Ciao Franco!